Nessun po' più ragazzi, qui tutto sotto contro oggi, stiamo tornando qui sul mio canale Oggi siamo nel settimo episodio della serie analisi squadra per squadra, consigli al fantacalcio Oggi andiamo con la Fiorentina, da come ho detto dal titolo e ho visto dalla miniatura Partiamo subito dal sempre presente Ovviamente vi dico una cosa, la Fiorentina ha sbantelato tutta la squadra Quindi ho cercato di mettere un po' quelli più sicuri e non i nuovi arrivati Però ci sono alcuni che vi dirò a fine video che potrebbero essere interessanti Il sempre presente è appunto Davide Astori Difensore 30enne, 33 partite, 2 gol e 0 assist dal costo 9 Lo scorso anno ha fatto molto bene Astori, cioè molto bene Aveva comunque un momento abbastanza alta per un difensore quindi mi sembra sul 6,5 E ve lo consiglio perché è anche un giocatore abbastanza partite E poi è anche il migliore della squadra insieme alla Stella, ovvero Federico Chiesa Centrocampista 20enne, che ha giocato 27 partite lo scorso anno, 3 gol e 3 assist dal costo 14 Il suo cambio ruolo a centrocampo potrebbe aiutarci molto ad usarlo al fantacalcio L'affare è Carlo Sanchez, centrocampista 31enne, 31 partite lo scorso anno con un gol e un assist Costo 4, Carlo Sanchez molto forte gioca anche da difensore Quindi è anche un po' sconsigliato perché la difensore non fa mai molto bene Ovviamente con Sosa giocavamo quest'anno, non lo so Il rischio da provare è Riccardo Sabonara, centrocampista 26enne, che lo scorso anno era presente Sia all'Empoli con cui ha assegnato 2 gol e un assist in 18 partite E con la Fiorentina con 11 partite, 2 gol e 2 assist La scommessa invece è Yanis Agi 19 anni, 2 partite, 0 gol e 0 assist Ma con la rivoluzione la squadra potrebbe avere più spazio dal costo 2 Quindi come sesto, ah non mi sono segnato il ruolo di Yanis Agi Però mi sembra che è centrocampista Quindi come ultimo di centrocampo, ultimo di attacco potrebbe far comodo Niente ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto Vi dovevo dire solo alcuni nomi su cui potreste puntare Ovvero Vere Tua, il centrocampista appena arrivato dal Saint Etienne Oppure i due difensori nuovi, Milenkovic e l'altro lì Vito Rugo Che sono molto interessanti Ho anche Eseric che dovrebbe arrivare dal Nizza Quando sto versando questo video Ovvero il 5 di agosto Voi non so quanto starete vedendo questo video E niente, io vi ringrazio tantissimo per la visione Lasciate un piacere, iscrivetevi E vi ricordo che non c'è nessun problema Che è tutto sotto, controllo, bella Alla prossima